Terapie miracolose anti-covid hanno rimesso in piedi Trump, così lui stesso definisce la cura che gli permette di parlare all'America. Le voci della sua salute circolano, per il medico presidenziale non è ancora fuori pericolo, per altri è una bufala creata d'arte. Sono qui, non mi sentivo molto bene, adesso sto meglio. Ce la stiamo mettendo tutta affinché possa recuperare completamente. Devo tornare perché dobbiamo restituire la sua grandezza all'America. Abbiamo fatto un lavoro enorme finora, ma il cammino è ancora lungo e dobbiamo completare il lavoro fatto. Tornerò, tornerò presto. Il Big Bang contagioso sarebbe avvenuto alla Casa Bianca, alla cerimonia di investitura della giudice Amy Coney Barrett alla Corte Suprema. Si parla addirittura di un focolaio di Covid tra i repubblicani. Numerosi senatori del Grand Old Party infettati, una tegola sulle presidenziali per i conservatori, si vedrà per il momento il Senato ha sospeso i lavori fino al 19 ottobre, chiuso per Covid insomma.